Eccoci collegati, scusate qualche minuto di ritardo, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar di fine mese organizzato in collaborazione con Banca Imi e quindi do il mio benvenuto ad Alessandro Galli in collegamento telefonico. Ciao Alessandro. Grazie, grazie per Paolo, ciao per Paolo e ciao a tutti quelli che sono collegati, un piacere ritornare con voi sotto anche questo caldo, non so lì che tempo fa ma qui il caldo è arrivato. È scoppiata l'estate e naturalmente questo porta sicuramente più di qualcuno magari ad essere anche in giro, ricordiamo tra l'altro almeno a Roma ieri era festività padronale quindi insomma forse qualcuno non lo so se si è allungato ha preso un giorno in più se è possibile ma comunque ricordiamo che questo webinar è registrato pertanto sarà possibile andare a rivederlo già dalla giornata di domani sul nostro canale Telegram e sulla nostra sezione dedicata sul canale YouTube Cedlab Academy pertanto qualora non foste presenti in questo momento appunto sarà possibile rivederlo già dalla giornata di domani. Per quanto riguarda i temi di oggi naturalmente andremo a vedere in particolare i nuovi certificati che Banca I mi ha quotato sul segmento di Sedex di Borsa Italiana proprio negli ultimi giorni in particolare si tratta di certificati bonus cap ma non faremo mancare ovviamente qualche spunto su certificati come i premium che continuano ad essere estremamente interessanti. Dopodiché come sempre vi invito a interagire con noi collegandovi con il pannello che è sulla destra del vostro monitor c'è il riquadro dedicato alle domande e alla chat e quindi è possibile interagire ponendo domande come sempre ormai è qualche mese che andiamo avanti in questo modo proprio per cercare di rispondere a tutti i vostri quesiti a volte siamo andati anche oltre l'orario prestabilito pertanto insomma se c'è qualche curiosità da parte vostra ormai sapete cerchiamo di rispondere a tutti e quindi faremo la stessa cosa anche anche oggi. Prima di passare quindi recuperare qualche minuto prima di passare all'analisi come detto delle novità andiamo a dare un'occhiata come di consueto ai mercati oggi listini europei con il segno rosso in particolare sul Fuzimib il contratto future scadenza settembre segna oggi uno zero cinquanta negativo ma c'è da dire che la giornata di ieri era stata particolarmente positiva con un rialzo di oltre un punto e mezzo comandata dalle banche il DAX invece oggi galleggia poco sopra la linea dello zero spinta al rialzo da una serie di fattori e di titoli tra cui anche se ormai con una capitalizzazione decisamente molto molto bassa anche il titolo Wirecard che concede il bis dopo la giornata di ieri quindi nell'ambito di questa storia decisamente eh abbastanza inusuale eh da raccontare perché purtroppo ci riporta indietro di molti anni in quello che fu una delle maggiori frodi e maggiori ehm degli maggiori scandali sul mercato finanziario ecco che si torna a parlarne purtroppo in questo caso per il titolo Wirecard che tuttavia da un euro circa di quotazione che aveva raggiunto oggi è arrivata addirittura a quotare nove euro quindi moltiplicando di nove volte il proprio valore prima di chiudere intorno ai cinque euro e settanta quindi poi eventualmente se fosse di interesse ne potremmo fare un commento per il resto insomma mercati che comunque chiudono il mese di giugno almeno in America per ora con il segno positivo anche se oggi sono attesi i discorsi di Jerome Powell e quindi ci sono comunque ancora degli elementi che potrebbero disturbare eh anche la l'andamento dei dei mercati ecco qui comincia appunto qualche qualche arriva qualche domanda ma io direi Alessandro non mi dilungherei oltre come dicevo con commenti vari poi li faremo nel corso dell'incontro ti lascerei immediatamente raccontare quella che è un po' la novità come di consueto partiamo con la novità e poi andiamo a vedere magari altre situazioni già quotate in questo caso trentadue nuovi certificati bonus cap esattamente grazie per Paolo allora sono è una nuova emissione dopo qualche mese che non facevamo questa più questa tipologia di certificati ehm da da giugno quindi da ormai quasi più di una settimana eh anzi da una settimana forse esatta è possibile acquistare sul sul sedex questa nuova serie di certificati che sono dei bonus cap certificate molti di voi all'ascolto sicuramente saprete già come funzionano però sinteticamente come funzionano i bonus cap di banca in la funzionamento è molto semplice allora nella data di emissione che in questo caso era il 18 giugno 2020 è stato è rilevato il valore iniziale dell'attività sottostante che qui è possibile scegliere fra un ampio pianere di azione sottostanti ma ci sono 32 certificati su tanti eh sottostanti diversi poi il 23 giugno è effettivamente stato sono stati quotati sul sedex e quindi è la data da cui è possibile acquistare a prezzo di mercato e questi certificati come funzionano prevedono un unico pagamento la scadenza che è pari al prezzo di emissione più bonus nel caso in cui il sottostante l'azione sottostante dovesse trovarsi al di sopra del livello barriera invece se sottostante alla data di scadenza o meglio due giorni lavorativi prima della data di scadenza quindi parliamo del 16 dicembre 2021 dovesse trovarsi al di sotto del livello barriera allora in quel caso si perde ehm si perde tanto quanto ha perso l'azione sottostante rispetto al suo valore di riferimento iniziale allora le barriere sono poste a dei livelli eh diversi eh quindi stiamo parlando di barriere che vanno dal 40 per cento per quella diciamo un po' più conservativa come barriera fino al all'ottanta per cento ehm giusto per ehm ne vedo una anche al 50 però sbaglio 50 dovrebbe essercene una anche al 40 vediamo subito se la troviamo eccola qui esatto fino al 40 ok ehm perfetto ad esempio questa qua al 40 cosa succede infatti sul sul titolo abbiamo fatto due certificati sullo stesso sottostante che è l'azione Renault ehm perché per il livello di volatilità e per le condizioni di mercato ci permettevano di eh di offrire comunque dei rendimenti che potrebbero risultare interessanti anche con barriere molto conservative e quindi per la prima volta abbiamo fatto una barriera a 40 per cento quindi questo cosa significa che eh affinché alla data di scadenza si possa eh acquisire il bonus e quindi il certificato rimborsi in questo caso 108 virgola 70 euro è sufficiente che il titolo Renault non perda più del 60 per cento rispetto allo strike iniziale che era 21,535 quindi se da titolo Renault alla data di rilevazione che è ben detto essere il 16 dicembre 2021 quota al di sopra del livello barriera pari a 8,6140 quindi se non ha perso più del 60 per cento il titolo rimborsa 108,70 euro poi c'è una versione un po' meno conservativa sempre su Renault in cui la barriera è posta a 60 per cento quindi stiamo parlando un livello barriera di 12,92 10 e in questo caso il premio stiamo parlando di un premio del 22,30 per cento quindi prezzo di rimborso 122,30 euro sempre data rilevazione il 16 dicembre 2021 quindi bonus cap di banca IMI parliamo di barriera di tipo europeo e quindi osservata unicamente alla scadenza non importa ai fini del prezzo di rimborso quanto si muove il titolo Renault questo ovviamente avrà un impatto sul prezzo del certificato durante il periodo di quotazione però non importa se Renault durante la vita del certificato scende al di sotto del livello barriera quello che conta è il livello di Renault ai fini del rimborso il livello di Renault alla data del 16 dicembre 2021 questo è il funzionamento del bonus cap di questa nuova serie di bonus cap di banca IMI poi adesso abbiamo fatto l'esempio su Renault giusto perché è una novità in termini di livello barriera molto basso parliamo del 40 per cento poi abbiamo altri titoli comunque anche con barriera del 50 60 70 per cento fino a arrivare a un 80 per cento su titoli un po meno volatili come come Eni e Enel firmore sanno che anche per questi titoli abbiamo previsto due livelli barriere diverse quindi troviamo il titolo Enel e il titolo Eni sia con barriera all'80 per cento quindi con un rendimento che può che può che può essere del 15,15 o del 17,55 per cento e oppure con barriere più conservative anche al 65 per cento in questo caso ovviamente il rendimento è un po più basso quindi parliamo del 9,40 per cento sul prezzo di emissione per Enel e del 10,20 per cento sul prezzo di emissione per Eni tutta questa serie comunque sia ha ha sempre la stessa scadenza quindi parliamo di un 18 mesi di scadenza e data arrivazione finale 16 dicembre 2021 allora stavamo vedendo qualche insomma un po qualche grafico stavo guardando prima intanto poi c'è Edoardo che ci segnala un paio di questi anche aveva già visto e che insomma potrebbero essere magari da sottolineare stavo guardando Renault perché comunque Renault credo che insomma chi ci segue sappia ha passato nell'ultimo periodo diciamo nell'ultimo almeno nell'ultimo semestre ma in realtà forse ha cominciato già dall'estate scorsa ad essere decisamente insomma negativa con addirittura se non ricordo male c'è stata per la prima volta una sorta di mezza ammissione da parte di un esponente del governo del Ministero delle Finanze adesso addirittura che non ricordo male che comunque diceva che Renault poteva essere un caso di fallimento per il per il mercato francese adesso ripeto dovrei andare a ricercare la notizia l'avevo letta ma parliamo di diversi mesi fa ecco diversi mesi fa perché nel frattempo come vediamo dai minimi di marzo dove comunque Renault ha toccato un minimo a dodici e settantasette quindi dodici euro e settantasette c'è stata comunque una ripresa non veramente nell'immediato perché comunque eh si è arrivati intorno ai diciannove quindi rimbalzo c'è stato però ecco questi ultimi questi ultimi due movimenti quindi questo consolidamento con un vero e proprio rettangolo che si è fermato da questa da queste parti e quindi un primo rettangolo tra l'area diciannove e l'area dei quindici e poi successivamente questo nuovo consolidamento che stiamo vedendo sempre in laterale che si sta verificando proprio qui con questa grande barra la la maggiore insomma quella più negativa che si era verificata vediamo qui in data eh undici giugno con l'undici giugno con questa barra negativa che ha portato da ventitré e novanta a ventuno e trentacinque quindi un calo superiore al insomma sono due euro e sessanta superiore al dieci per cento e ora sta lateralizzando da queste parti mantenendo tutte vie i minimi queste insomma da un punto di vista grafico quindi è un titolo chiaramente incanalato in un trend negativo di lungo però due lateralizzazioni una che potrebbe essere servita per cercare di strappare al rialzo e infatti una volta che c'è stato il break up lo vediamo quindi tentativi di rompere al rialzo il rettangolo finalmente è riuscito questo tentativo il ventisette maggio proiezione come target la ehm l'ampiezza del rettangolo che quindi è stata sicuramente rispettata perché dovremmo essere qui in area venticinque poi un tentativo di rottura che è stato però cioè di allungare che per l'area è stato vanificato e il nuovo rettangolo che si sta formando qui da queste parti ma comunque sempre al di sopra della parte superiore della congestione precedente pertanto a un punto di vista grafico ritengo che possa essere interessante mantenere l'area dei minimi di venti e sessanta siamo a ventidue e cinquantotto al momento così come sarebbe molto positiva invece la rottura dei ventiquattro circa perché la rottura dei ventiquattro farebbe innanzitutto chiudere il gap lasciato qui questo piccolo cappettino e poi magari la possibilità di andare a riattaccare i massimi questo chiaramente per chi fa un trading o comunque segue i titoli più da vicino anche da un punto di vista grafico e tecnico per quanto riguarda il certificato c'è da dire che quello che ci stai facendo vedere Alessandro in realtà sono i livelli decisamente più lontani soprattutto osservati unicamente alla scadenza quindi ad esempio per chi volesse puntare sulla tenuta dei minimi 12 euro e 92 di barriera e ricordo invece il minimo è stato fatto a 12 e 77 quindi siamo esattamente sul test dei minimi la barriera anche in questo caso ce lo confermi non è una barriera americana non succede giusto corretto corretto l'importante è la data del 16 dicembre 2021 quello che è che ha da prima non ha influenza sul prezzo di rimborso del certificato quindi vuol dire che potrebbe anche verificarsi una nuova discesa in autunno piuttosto che alla prima metà del 2021 tale da riportare magari i prezzi sui minimi non sarebbe proprio un bellissimo segnale ma magari a quel punto la tenuta del minimo due volte in un periodo mediamente lungo potrebbe permettere al titolo finalmente di risalire tra l'altro a noi francamente investendo in certificati che poi risalga ci serve anche a poco perché in ogni caso se sarebbe sufficiente tenere per la scadenza di dicembre 2021 i 12 e 92 per portare a casa 122,3 euro a certificato attualmente quanto quota questo l'avete è quotato dal 22 mi dicevi sì sono il 23 se non mi sbaglio il primo giorno di quotazione esattamente una settimana fa siamo intorno ancora la pari se non mi sbaglio questo qua su reno indicativamente si è dato leggermente sopra la pari prezzo lettera 101,70 quindi da qui a dicembre 2021 circa 20 punti percentuali di rendimento per chi punta sulla tenuta del doppio minimo sul reno viceversa per chi vuole proprio cercare di stare più tranquillo possibile barriera ultra protettiva a 8,61 quindi 4 euro al di sotto dei precedenti minimi e il rendimento che però a questo punto diventa evidentemente più ridotto insomma poco rischiare poco poco guadagnare in teoria e quindi comunque sempre un 7 per cento da qui a 2021 ci si guadagna un po' meno però evidentemente sia molto più protetti poi per quanto riguarda invece Eni stavamo vedendo due barriere anche qui 7 0 6 e 5 e 74 da un punto di vista grafico questo è ciò che sta accadendo al titolo Eni in linea verde è un confronto con il petrolio in questo momento ci serve a poco comunque col titolo Eni sta lateralizzando dal 31 cioè diciamo da marzo sta lateralizzando comunque non ha più rotto poi i minimi sotto area 7 e 91 e il minimo è stato fatto invece a 6 e 26 esattamente a marzo ricordiamo Eni è un titolo comunque destinato a tornare verso le proprie medie di periodo quindi se ad esempio andiamo a guardare un periodo decisamente più lungo su Eni vediamo che è storicamente stato sempre sopra i 12 e questa è una fase decisamente eccezionale che si sta avvivendo per una serie di fattori quindi certificati su Eni barriere due a disposizione una a 7 0 6 l'altra a 5 74 quindi la prima in teoria è stata già vista a marzo e non è lontanissima infatti un 20 per cento di distanza dai dagli valori di strike e l'altro a 5 74 o ricordiamo che certificati bonus a differenza dei cash collect o comunque dei prodotti eh di tipo cedolare appunto non prevedono il pagamento di coupon periodici pertanto si adattano bene ad un'aspettativa di mercato ehm moderatamente rialzista o eventualmente anche come abbiamo visto moderatamente ripassista per quanto un meno sessanta è tutt'altro che moderato però insomma c'è una una un'ampiezza della protezione però ecco sono più adatti a chi non ha la necessità di incassare dei premi periodici proprio perché il premio viene pagato unicamente alla scadenza questo può permettere a chi struttura il prodotto di pagare qualcosa in più sulla eh sullo stesso sottostante stessa scadenza perché anziché doverlo pagare a rate e quindi sotto forma di flusso celolare viene riconosciuto unicamente alla scadenza altro aspetto che possiamo ricordare sui bonus e poi ripercorriamo un po' rapidamente l'emissione e che chiaramente risentono del fattore temporale eh e pertanto più passa il tempo anche a parità di sottostante e più i certificati si apprezzano quindi oggi lo si acquisti a cento fra sei mesi ci troviamo con il sottostante esattamente allo stesso valore di oggi con una volatilità che nel frattempo magari non è salita ma è rimasta sui valori anche attuali il certificato inevitabilmente sarà cresciuto di prezzo e a quel punto potremo eh venderla eh tranquillamente anche sul mercato consolidando il risultato e ci chiede Monica se tutta l'emissione di Bancaimi sarà presente sul prossimo Certificate Journal senz'altro Monica ne parleremo sul prossimo numero dedicheremo adesso non so ancora quale tipo di articolo ma certamente la presenteremo perché è un'importante serie di nuovi prodotti quindi potrai trovare un approfondimento sul prossimo numero che uscirà la prossima settimana e Francesca ci chiede sono ancora in denaro e forse intende se si possono comprare sì 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 questi qua assolutamente hanno sia prezzo denaro sia prezzo prezzo lettera perché questi qua seguono quel filone di cui intanto parliamo quello che si chiama dark listing cioè sono tutti i certificati che eh sono stati creati e emessi e li vengono quotati direttamente sul mercato in questo caso la select di borsa italiana quindi l'unico modo per poterli acquistare è proprio sul mercato non c'è un periodo d'offerta o una fase di collocamento quindi mh già da dal primo giorno c'è sia prezzo denaro sia prezzo lettera e il mercato è l'unica modalità eh attraverso cui è possibile acquistarli bene stavo vedendo questo su Leonardo novantuno e quaranta quindi anche ben ben sotto la pari no mi interessa perché da ormai dal dal venti maggio circa sto seguendo anche dal punto di vista grafico il titolo Leonardo perché ha mh raggiunto un minimo in area cinque dieci ehm e sulla base di quei cinque dieci insomma avevo intravisto almeno personalmente qualche opportunità ecco lo vediamo qui questo è stato il minimo che è stato fatto a marzo quattro e trentotto poi c'è stato il successivo momento di discesa con l'avvenuta dei cinque euro e dieci e qui insomma un importante rimbalzo attualmente parzialmente annullato ma comunque sta tenendo in questi giorni l'area dei cinque ottanta questa potrebbe essere interessante come idea perché comunque la barriera ho visto che è sotto i cinque dieci che sarebbe comunque un livello interessante di supporto o almeno finora lo è stato la barriera è a quattro e novanta scadenza dicembre duemilaventuno bonus centosedici e sessantacinque che tradotto in percentuale rispetto a novantuno comincia ad essere praticamente sono nove più sedici venticinque e quasi un trenta per cento di rendimento su questo certificato legato al titolo Leonardo quindi dove ad esempio si riescono a trovare per vedere i prezzi possiamo andare qui alessandro se andiamo in bonus possiamo andare su bonus e filtrarli per scadenza esatto perché bonus e banca di mini ha veramente tanti stiamo parlando di 224 prodotti quindi per provare proprio questa emissione basta filtrare la scadenza per dicembre vediamo così 37 quanti nei fatti 32 32 che ne sono cinque in più e possiamo ordinarli per per data scadenza così vediamo subito forse proprio questi due all'inizio che potrebbero non essere quelli eccono qua microsoft alla vado a togliere ulteriormente no così ci diamo un'occhiata ai prezzi vado ad vedete se se fa se fate così sul ecco 7 dicembre 2021 34 ci sono ancora questi due ma dai poi insomma non importa però qui ci qui vediamo i prezzi quindi partendo da da qui credo che siano questi ci interessano 99 100 92 93 questo su Leonardo Bayer 97 general motor 95 95 ed è quello con barriera 5 74 Fiat sulla pari barriera 4 e 18 Peugeot un po' su total 97 85 92 95 Volkswagen allora chi è che ci scriveva Edoardo scriveva prima il 385 e il 427 385 e 427 vediamo un po' poi se li riprendiamo strada facendo ecco qui 385 Amazon Amazon 1857 dollari di barriera quindi una distanza del 30 per cento bonus 110 e 90 quindi siamo esattamente qui e si acquista esattamente sulla pari diciamo che Amazon per ora sta dimostrando comunque di tenere un po' qualsiasi a qualsiasi crisi qualsiasi intemperie quindi eh un buon premio 96,8 invece il 427 era quello che sempre citava Edoardo 96,8 con un premio dell'8 e 85 sul titolo Coca Cola sì forse il più basso è proprio questo su Leonardo stavo guardando a livello di di prezzo le trezzi sì penso sia anche sottostante che abbia un po' performato peggio in quest'ultima settimana sì perché vediamo qui dalla distanza alla barriera è vero che non tutti ce l'hanno allo stesso livello però vedo che è quello che ha diciotto per cento gli altri mi sembra di vedere addirittura qui su Fiat siamo arrivati al cinque ah beh questo era quello emesso già con cinquanta per cento di barriera va bene allora Alessandro direi che l'idea ce la ce l'hai data quindi la possibilità di investire su scadenza dicembre duemilaventuno tra l'altro venti dicembre duemilaventuno la scadenza è anche data di pagamento immagino sì 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 quindi quindi è utile eventualmente per chi avesse esigenza di recupero minus centro scadenza duemilaventuno l'importante è che i soldi arrivino sul conto entro fine anno quindi con una scadenza al venti dicembre c'è comunque un po' di margine e quindi prendeteli in considerazione anche per chi ha ad esempio delle minus in scadenza duemilaventuno e un'interpretazione fiscale sui coupon che non permette la compensazione immediata ricordo che ci sono alcune banche che adottano questa interpretazione fiscale sui premi periodici che non permettono appunto di compensare immediatamente in questo caso non ci sarebbe questo rischio perché il certificato andrebbe in scadenza naturale quindi si chiuderebbe la posizione e pertanto questo rendimento potenziale che andiamo a vedere sarebbe tutto pulito e quindi rendimento fino al trenta e oltre per cento come abbiamo visto ad esempio su su leonardo e altri insomma comunque tutti da utilizzare in ottica di recupero minus va bene alessandro allora direi che questa eh l'abbiamo vista naturalmente se poi ci saranno domande o comunque curiosità potremo tornarci su però ecco mi sembra di vedere che il meccanismo sia ormai abbastanza chiaro e assimilato quello dei bonus cap e pertanto la possibilità di andare a trovare questa nuova serie di emissioni facciamo un giro invece su qualche certificato premium che dici sì 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 almeno vediamo anche l'altra struttura giustamente tu e giustamente che questi certificati bonus che abbiamo appena visto non prevedono il pagamento di premi intermedi ehm per chi invece volesse ricevere dei premi eh periodici eh possiamo fare riferimento a un'emissione che abbiamo fatto ultimamente ultimamente diciamo la penultima emissione che risale poi a febbraio 2020 eh che si tratta di premium certificate anche qua su su diversi un ampio paniere di sottostanti e mh a differenza dei bonus questi questi certificati prevedono durante la loro vita il pagamento di premi che non dipendono per questo si chiamano premium certificate dall'andamento dell'attività sottostante quindi eh i premi che vengono corrisposti durante la vita del certificato ad ogni febbraio in questo caso perché hanno una durata di quattro anni eh nel periodo intermedi parliamo di febbraio 2021 febbraio 2022 febbraio 2023 corrispondono le premi che non dipendono dall'andamento del eh del sottostante invece per quanto riguarda l'ultimo premio scadenza nonché il rimborso del prezzo di emissione del certificato vale la stessa regola che avevamo visto prima con i bonus certificate quindi se il sottostante alla data di valutazione finale in questo caso per questa serie di certificati parliamo del 15 febbraio 2024 dovesse trovarsi al di sopra del livello barriera allora il certificato rimborsa il prezzo di emissione di 100 euro più un ultimo eh premio annuale nel caso in cui invece il sottostante dovesse trovarsi al di sotto del livello barriera il certificato rimborsa un importo commisurato alla performance negativa del sottostante ecco da considerare che e soprattutto per questa serie che era stata emessa a febbraio entrano in gioco eh infatti è la distanza della barriera che c'è attualmente eh rispetto al prezzo del sottostante perché alla data di emissione quindi prima del covid tutti questi certificati erano stati emessi con una distanza alla barriera di circa 50 per cento se non mi sbaglio si è rispetto al 50 per cento per tutti i sottostanti eh quindi mentre invece ad oggi la distanza alla barriera per tutti i sottostanti è cambiata notevolmente d'altro canto ovviamente sia per quanto riguarda eh anche il rendimento e quindi il prezzo di acquisto del certificato è cambiato per per molti sottostanti quindi non stiamo parlando più di un prezzo di acquisto che è di cento euro ma a seconda dell'andamento del sottostante possiamo trovare eh certificati con prezzo di acquisto inferiore al al cento quindi con un rendimento potenziale più elevato rispetto a quello della data di emissione ma magari è ancora un rischio più elevato perché il sottostante è più vicino al livello barriera o semplicemente perché la volatilità del sottostante è aumentata facendo abbassare il prezzo del certificato. Allora io ti ho accompagnato in tutta la tua presentazione facendo vedere intanto il primo certificato che abbiamo individuato che rappresenta come ormai credo da anni facciamo ancora prima di iniziare con te Alessandro parlavamo durante i nostri webinar collaborazione con Bancaimi di Tesla perché è un titolo che da sempre eh rappresentato almeno per il nostro ufficio studi una un'interessante opportunità anche quando forse è salita fin troppo sulla base di fondamentali non così soliti oggi diciamo che continua a stupire tant'è vero che proprio oggi è stato toccato un nuovo massimo in aria adesso non so se è proprio un nuovo massimo assoluto ma comunque credo che con lo strappo ottimo odierno a mille e cinquantadue dollari ci siamo eh sì esattamente lo vediamo qui ha fatto un massimo di giornata mille ottantacinque dollari proprio oggi attualmente mille e settantasette sta salendo anche oggi di oltre un set sei per cento sette per cento un titolo che veramente non si ferma incredibile come continui a correre non sembra avere appunto nessun tipo di resistenza che ormai siamo su territori inesplorati naturalmente come sempre acquistare il singolo titolo azionario permette immediatamente di ottenere dei benefici lineari ma se si entra eh su un picco di mercato poi ci si trova immediatamente contro tutta l'eventuale ritracciamento perché questo certificato continua a piacerci all'interno di queste serie di di premium cash collect perché perché qui lo strike iniziale quindi all'emissione del certificato tesla valeva ottocentocinquantotto dollari la barriera è stata fissata a quattrocentoventinove dollari pertanto rispetto ai valori attuali lo possiamo vedere anche nell'analisi di scenario si è in grado di sopportare anche un'eventuale discesa di tesla di circa il sessanta per cento da oggi poco meno e quindi a perdere il sessanta per cento vuol dire a zerare tutto quanto di buono è stato fatto praticamente in questi ultimi mesi se tesla per la scadenza che è comunque non è immediata perché scaderà a febbraio duemilaventiquattro rimarrà al di sopra di questi livelli il certificato pagherà il cinque virgola sette annuo senza possibilità di rimborso anticipato quindi abbiamo circa eh diciassette punti percentuali di rendimento da coupon più l'ultimo coupon dei cinque e settanta e quindi abbiamo un totale di ventidue punti e ottanta che si vanno a sommare ai circa dieci di acquisto sotto la pari e questa è un'altra cosa che anche le scorse volte Alessandro Ducci avevi fatto notare e credo che sia opportuno ricordarla anche oggi cioè con un titolo che guadagna il ventidue per cento dall'emissione il certificato anziché comprarlo sopra la pari lo paghiamo addirittura dieci euro in meno appunto per l'importanza che citavo prima della volatilità dell'andamento della volatilità ricordiamo che questi certificati l'andamento del prezzo è suscettibile ovviamente dell'andamento del prezzo del sottostante ma oltre all'andamento del prezzo del sottostante un altro elemento tra gli altri elementi chiave che influenzano il prezzo di quotazione c'è l'andamento della volatilità quindi un aumento della volatilità del sottostante fa diminuire il prezzo del certificato e viceversa e poi anche la componente dei dividendi attesi però in questo caso diciamo che la volatilità è quello che è fatto da padrone in questo in questo scenario esattamente quindi il certificato che si può continuare tranquillamente a diciamo considerare come una buona opportunità naturalmente se siete tra quegli investitori o comunque nella schiera di persone che riconoscono a Elon Musk comunque un qualcosa e anche naturalmente alla Tesla capacità di poi di di promettere quello che sulla carta è stato per lungo tempo forse solamente ehm cioè di mantenere ciò che è stato promesso se invece siete scettici naturalmente evitate perché anche un sessanta per cento a quel punto potrebbe non essere più così protettivo comunque molto interessante ripeto per il rendimento potenziale perché abbiamo ventidue virgola otto punti di coupon da incassare entro la scadenza più dieci punti sotto la pari siamo a trentadue punti e otto e in quindi il rendimento è circa del trentacinque per cento da qui a febbraio ventiquattro naturalmente il certificato man mano pagherà premi e poi si avvicinerà alla scadenza rimborsando i cento più eventuale coupon e possiamo vedere magari e poi rispondiamo a un paio di domande possiamo vedere qualche altra emissione anche in questo in questo ambito quindi anche di altri prodotti che sono stati individuati dal nostro ufficio studi quando vado quindi vado qui a mettere codice Aisin cinquantaquattro quattordici sei due cinque in questo caso abbiamo un certificato bonus cap quindi non aspetta prima torniamo i coupon su tesla sono incondizionati ci chiede francesca sì i coupon intermedi quindi quello del 2021 2022 2023 sono incondizionati non dipendono dall'andamento del sottostante ecco colgo l'occasione visto che siamo sul titolo tesla per dire che in queste serie di certificati in cui il sottostante è un'azione denominata in dollari statunitensi comunque sia il certificato denominato in euro quindi non si è esposti al rischio legato all'andamento del tasso di cambio bene allora altro premium dopodiché avevamo una serie di bonus in questo caso abbiamo una serie una serie precedente quindi forse non è sì è un premium però è la serie precedente che andrà in scelta sì no ma va bene sì molto molto simile infatti questa questa serie è stata fatta a novembre 2019 quindi con sceltenza a novembre 2023 anche questa prevede il pagamento di premi periodici annuali questo caso che verranno pagati a dicembre di di ogni anno e anche questi sono quelli intermedi sono tutti incondizionati quindi a novembre si ha la possibilità di ricevere premi incondizionati che c'erano le rispettive plusvalenze nel caso è preso un esame ad essere per paolo parliamo di un premio pari a 6,15 euro mentre la scadenza in questo caso stiamo parlando di una scadenza del 13 novembre 2023 scusate scadenza ok quindi del 2019 2023 quindi sempre quattro anni data arrivazione finale due giorni lavorativi prima quindi stiamo parlando del 9 novembre 2023 se l'azione sottostante si trova al di sopra del livello barriera il certificato corrisponde 100 euro del prezzo di emissione più 6,15 euro indipendentemente da come si è mosso sottostante durante la vita del certificato e indipendentemente dal prezzo di acquisto nel caso in cui invece sottostante dovesse trovarsi al di sotto del livello barriera si riceve la performance negativa del sottostante sempre rispetto al prezzo di emissione quindi rispetto allo strike iniziale del sottostante quindi quello che aveva il sottostante in questo caso alla data di emissione ovvero 22,08 andiamo parlando anche qua di un certificato con un sottostante che ha una performance positiva rispetto allo strike iniziale se non ho visto quanto quota esatto e anche questo quota in questo caso leggermente sotto la pari per lo stesso effetto che avevamo visto prima con con tesla e quindi anche qui alessandro diciamo che l'idea è di prendere un 6 e 15 senza condizioni ricordiamo che anche da un punto di vista della fiscalità per chi dovesse aver bisogno di recupero minus in questo caso dove la banca consenta la compensazione immediata delle minus il fatto che siano incondizionate naturalmente questa è una notizia che vi posso dare a livello di diciamo ciò che avviene normalmente non lo stabilisce nell'emittente quindi chiaramente non banca imi però nonostante sia incondizionato è un coupon che permette la compensazione quindi 6,15 annuo 6,15 con l'ultimo premio condizionato e quindi abbiamo 24 punti e 60 che si vanno a sommare a quel insomma circa un punto sotto la pari siamo anche qui sopra i 25 punti percentuali però su una scadenza un po' più breve sono tre anni e cinque mesi quindi interessante come idea allora avevamo selezionato altri bonus però risponderei a qualche domanda ad esempio c'è una segnalazione che ci è arrivata da parte di and the end che ci chiede se possiamo dare un'occhiata a questo certificato io lo inserisco direttamente qui però allora è un premium ugualmente sul titolo Netflix quindi è sì sempre la stessa famiglia Alessandro scadenza febbraio 2024 quindi nulla di diverso dal precedente 379 di premio annuo barriera al 50 per cento barriera quindi a 193 dollari Netflix che è in rialzo del 16 e 50 e forse ecco la domanda potrebbe essere un po' almeno io immagino no un po' visto con quello che abbiamo visto su Tesla prima cioè come mai il certificato quota ancora sotto la pari e la risposta credo che sia ancora la stessa esattamente esattamente volatilità la volatilità probabilmente di Netflix eh rispetto alla telemissione è salita molto e quindi conseguentemente il prezzo del certificato è sceso quindi anche a livello ipotizziamo anche che Netflix eh rimanga stabile a questo prezzo eh e a parità di altre condizioni nel mercato se nei prossimi mesi si assiste a una diminuzione in questo caso della volatilità allora cosa succede? il prezzo del certificato torna a salire anche se il prezzo effettivamente rimane pressoché costante ah stavo dando un'occhiata così ci possiamo fare anche una un'idea ad esempio del discorso volatilità e in relazione all'andamento del titolo quindi se andiamo ad esempio a prendere ecco qui abbiamo fatto un po' di buchi per effetto appunto del eh dei cap down però andiamo a mettere in relazione il certificato con il titolo Netflix a partire dall'emissione quindi diciamo venti ma facciamo un po' prima quindici febbraio duemilaventi e così allora no il certificato è iniziato a quotare il ventuno quindi dobbiamo mettere stessa data eccoci qui ventuno febbraio vediamo lo normalizziamo pure così facciamo partire proprio tutti e due allo stesso punto e così abbiamo un'idea allora in bianco abbiamo il certificato in giallo abbiamo il titolo Netflix vedete come effettivamente i primi giorni quando la volatilità era tutto sommato ancora quella corrispondente all'emissione erano abbastanza appaiati tutti e due si muovevano abbastanza in maniera simile poi sulla prima discesa di marzo vediamo come il certificato abbia seguito Netflix e poi ecco qui come tutti i quei certificati quotati sul nostro mercato ricorderete che a metà di marzo hanno offerto delle grandi opportunità perché perché sono scesi molto più dei relativi sottostanti amplificando il risultato proprio per effetto della volatilità e quindi lo vediamo bene qui 17 marzo ad arrivare fino al giorno dopo il certificato è crollato praticamente di quattordici punti eh che in percentuale su ottantasei cominciava a essere quasi un venti per cento mentre Netflix in cui in realtà non stava scendendo quel giorno in maniera importante e qui si è creata questa divergenza pertanto attualmente abbiamo questa situazione che è frutto di una volatilità su Netflix che comunque continua ad essere elevata certo non siamo più ai livelli di metà marzo pertanto questa sarà una situazione che si andrà a normalizzare via via nel tempo vi vado a far vedere un po' la situazione attuale della volatilità di Netflix che ci dimostra come in linea azzurra chiaramente rispetto ai valori di metà marzo dove si è raggiunto un novantotto per cento attualmente si sia decisamente raffreddata siamo qui intorno a un cinquanta per cento però cinquanta per cento è ancora una volatilità alta se consideriamo che l'emissione è stata fatta qui quando la volatilità era ventotto punti percentuali ricordiamo che quando la volatilità sale di circa venticinque ventisei punti si porta dietro mediamente un tredici quattordici punti percentuali sul certificato e sono quelli che praticamente mancano al momento allo strumento pertanto oggi comprare questo certificato potrebbe voler dire anche scommettere sul fatto che la volatilità prima o poi ritorni più o meno in area ventotto e a quel punto a parità di sottostante il certificato tenderà a crescere più rapidamente quindi questo è un po' per spiegare il fatto che in questo momento è più un'opportunità che un problema e questo per rispondere ad end poi ehm prima di vedere un altro Aisin ti leggo una domanda io la risposta la so ma vorrei che naturalmente la rispondi la dicesti tu eh la spiegassi tu voleva sapere Edoardo mh i prezzi che esponete sui sul sito quindi ad esempio questo 90 91 adesso ecco qui questo denaro lettera sono la vostra contribuzione o i prezzi di mercato perché questa forse siete veramente tra i pochi se non addirittura forse gli unici ti dico Alessandro che leggete il mercato e non i vostri prezzi ecco qui corretto qua sono proprio i prezzi ovviamente sono in ritardo di circa 20 minuti adesso mercato chiuso quindi sono gli ultimi prezzi ma la fonte è proprio il mercato in questo caso il sedex quindi non sono i prezzi denaro lettera eh offerti da bancarini ma quali fatti dal mercato poi maggior parte delle volte coincidono con il nostro prezzo però comunque sono quelli la fonte e il mercato sedex in questo caso ma è importante comunque chiarirlo devo dire che anzi ringrazio Edoardo per averci permesso di chiarirlo perché più di un'occasione mi è capitato anche di confrontarmi con qualche utente che diceva di aver visto sul vostro sito un prezzo ad esempio di 750 su un certificato a capitale protetto eh dice ma ovviamente non in lettera ma in denaro quindi in bid e dice com'è possibile che un'emissione protetta il market maker se la ricompri così bassa e io ho detto guarda perché evidentemente non era il market maker forse c'è stato un buco di quotazione c'era una proposta di un retail a prezzi infinitamente bassi e quindi ecco possiamo confermare che che è così quindi lettura direttamente del mercato sedex o borsa italiana e c'è Michele che ci fa una domanda io prima metto qui il certificato poi evidentemente lo vediamo di là se allora ha questo certificato che è un bancaimi digital quindi ricordiamo la serie di prodotti non da direct listing non quelli che vengono quotati direttamente sul mercato bensì quelli che passano per una fase di collocamento e poi vanno sul mercato secondario e chiede Michele dice ce l'ho il portafoglio se conviene venderlo e ehm acquistarne uno di nuova emissione ma allora diciamo prima di rispondere vediamo un po' di cosa si tratta eh qui è un capitale protetto dettaglio andiamo a vedere protezione nel novanta per cento del capitale partecipazione eh no insomma perché è un digital quindi qui arrivano dei premi annui del tre e quaranta condizionati alla tenuta del cento per cento dello strike iniziale da parte del CAC dell'indice francese quindi attualmente prezzo di novecentosessantasei possibilità e probabilità ancora di incassare i premi no beh questo di giugno è andato perché era il ventiquattro giugno non l'ha pagato e tra l'altro la cedola viene pagata sulla base dei prezzi medi del ventidue ventidere e ventiquattro quindi probabilmente non è stata un certo dico anzi quasi sicuramente non è stata pagata ma questa forse è un'informazione che nel sito c'è eh Alessandro che dici allora pubblichiamo nel caso in cui sia stata pagata pubblichiamo l'avviso nel caso in cui vediamo non viene pagata eh avviso pagamento esatto avviso pagamento importo digital esattamente quello dove sei e qua vediamo i premi che sono stati pagati quindi come vedete non c'è il premio relativo al al 2020 perché appunto non è stata e questo è utile diciamo come vedi ogni ogni vostra segnalazione che ci permette di fare magari un giro un passaggio nel sito ci permette di scoprire qualcosa di nuovo a partire ad esempio dall'indicazione dei coupon pagati spesso molte persone chiedono ma come faccio a sapere se ha pagato il coupon alcuni siti lo mettono magari in maniera più evidente altri non lo mettono proprio ecco voi ce l'avete come informazione nella documentazione c'è proprio la notice di avvenuto pagamento quindi questa nota aggiuntiva che fa vedere se è stato pagato e in questo caso per il 2020 non lo vediamo appunto come abbiamo detto in pagamento ma per rispondere a Michele che che dirti allora diciamo che questo è uno strumento a capitale protetto quindi vuol dire che meno di novecento euro alla scadenza non potrai ottenere perché è il rimborso minimo alla scadenza di giugno 2022 quando l'hai acquistato naturalmente non ho idea di quale tipo di obiettivo avessi finora se sei riuscito a incassare i primi due premi diciamo che se anche tu l'avessi preso il collocamento saresti in guadagno di poco dipende ora qual è che cosa vuoi fare e cosa credi del mercato cioè se comunque il tuo obiettivo è rimanere su uno strumento che ti garantisca il capitale alla scadenza diciamo che andare su uno dei nuovi prodotti che abbiamo visto oggi forse si rischia no perché comunque passi da un capitale protetto incondizionato a un capitale protetto condizionato se invece comunque sei un po' più confidente sul mercato ti sei un po' stancato della scarsa reattività dello strumento vuoi andare su qualcosa che si muova di più anche a costo di magari di poter perdere se un titolo dovesse perdere il cinquanta per cento e allora se accetti questa cosa perché no uno dei nuovi strumenti preso vendi a noventasei ricompri abbiamo visto i nuovi bonus cap li puoi prendere a novantacinque novantaquattro quindi ci sta come idea dipende dal tuo obiettivo ecco comunque passi da una protezione del capitale a una protezione condizionata quindi questo è per chiarire e Davide deve scappare naturalmente ti ringraziamo Michele appunto confermava che non è stata pagata va bene allora io ho un altro paio di Aisin ancora eh che erano stati individuati li vediamo li vediamo qui così facciamo direttamente un passaggio sul ecco se non ti dispiace no perché così vediamo sui prezzi direttamente anche perché sono tutti bonus e quindi vabbè no questo è un bonus plus quindi non è non è della vostra del vostro direct listing ma non perché non si possano comprare ossia non siano interessanti eh ma preferisco concentrarmi su quelli che sicuramente hanno un denaro lettera e questo questa è la nuova questa è la nuova emissione diciotto giugno duemilaventi venti tre giugno duemilaventi inizia una negoziazione sì sì questa qua è l'ultima proprio questa quindi settimana scorsa accostata settimana scorsa ok e qui allora diciamo che il nostro ufficio studio li sto vedendo assieme a voi devo dire adesso perché tipicamente riesco a guardarli prima ma non eh ho chiesto al mio ufficio studio di datemi una selezione di buoni prodotti bancaimi e quindi li sto scoprendo assieme a voi oggi perché prima non sono riuscito e quindi qui abbiamo un Volkswagen nella nuova emissione e nella nuova serie appena sopra strike cento uno virgola ottantuno con il prezzo che si mantiene sul nominale analisi di scenario che comunque ci fa vedere anche in questo caso due cose interessanti la prima è che chiaramente c'è un rendimento potenziale su un titolo come Volkswagen che non dovrebbe avere nuove ehm nuovi ostacoli e nuove sorprese negative ma soprattutto come vedete attualmente assolutamente lineare cioè vuol dire è vero che è stato appena emesso quindi eh ci sta che sia anche così però a fronte di un meno 50 di Volkswagen 49 per di perdita del titolo certificato quindi del certificato pertanto non c'è premio sulla lineare e questo aiuta un po' come per dire investo sul titolo investo sul certificato investo sul titolo se ho una forte aspettativa di rialzo perché così posso guadagnare anche più del 12 per cento oppure investo sul certificato sapendo che se proprio dovessimo andare sotto barriera perdo esattamente come il titolo ma a costo di non guadagnare magari in maniera illimitata mi garantisco una protezione fino al circa il 30 per cento anzi in realtà è un 40 perché la barriera è a 79 e qui vediamo che a 30 siamo a 94 quindi oltre un 40 per cento da oggi quindi un'idea comunque valida selezionata come ho detto dal nostro ufficio studio e poi andiamo a concludere con ancora anche qui credo che sia sempre della nuova serie vediamo un po' che cosa ci hanno intanto che facciamo quello volevo dire su Volkswagen e sulla nuova serie trovate anche suo suo simile diciamo ma con barriera posta un po' più in alto cioè al 75 per cento ma in terrenimento in questo caso sarebbe il premio del 20,40 per cento ok quindi lo rivediamo qui nuovamente andate in home page se selezionate il bannerino il banner della nuova emissione trovate qui tutti i prodotti scendendo quello che appena detto Alessandro quindi Volkswagen barriera 79 per un premio dell'11 e 75 oppure se si ha una maggiore aspettativa di rialzo hai fatto bene a specificarlo che se si è un po' più positivi a quel punto non c'è bisogno di prendere una barriera più profonda anche se uno è positivo la barriera può prendere anche più alta quindi correttissima precisazione di cui ti ringrazio altro è il titolo Enel questo un po' più per avevamo visto prima quelli su Eni in questo caso Enel barriera 4 e 85 premio del 9 e 62 anche qui estremamente protettivo perché circa un 40 per cento e credo anche su Enel questo abbiamo preso anche in questo caso forse il più prudente tra i due esattamente perché poi c'è anche quello a barriera 80 per cento quindi con barriera 5,97 84 premio 15 e 15 benissimo va bene allora non ci sono non ci sono altre domande vedo qui sì diciamo che non ci sono altre domande alcune erano comunque simili a quelle che abbiamo visto Alessandro siamo in conclusione a questo punto se per una volta chiudiamo all'orario giusto grazie mille grazie per paolo sempre per la collaborazione ringrazio tutti i partecipanti e speriamo bene adesso con questo caso magari un po un po di vacanze per tutti riuscire riusciremo a farle poi prossimamente sicuramente si ritorniamo per paolo per il prossimo webinar il prossimo appuntamento grazie ancora tutti e buona serata grazie a te Alessandro è una buona serata a tutti e appuntamento al prossimo incontro ciao a tutti ciao